Italia domani, il piano nazionale di ripresa e resilienza, PNRR, è il piano italiano di rilancio dell'economia dopo la crisi Covid-19 approvato dalla Commissione europea all'interno del programma Next Generation EU, il pacchetto da 750 miliardi di euro concordato dall'Unione europea in risposta alla crisi pandemica. L'obiettivo del piano è quello di rispondere ai danni economici e sociali provocati dalla crisi, ma anche di contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell'economia italiana, riducendo i divari territoriali, generazionali e di genere. I fondi a disposizione la principale componente del programma europeo Next Generation EU è il dispositivo per la ripresa e resilienza. Recovery and Resilience Facility, che ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro, 312,5 miliardi di sovvenzioni, 360 miliardi di prestiti a tassi agevolati. All'interno di questo stanziamento, il PNRR italiano prevede investimenti e riforme, a cui sono destinate risorse per 191,5 miliardi di euro, finanziate attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza e per 30,6 miliardi attraverso il fondo complementare istituito nel maggio 2021 dal governo. Il totale dei fondi previsti ammonta quindi a 222,1 miliardi. Sono stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da destinare alla realizzazione di opere specifiche. Nel complesso si potrà quindi disporre di circa 248 miliardi di euro. Gli assi strategici del PNRR Il PNRR si sviluppa intorno a tre assi strategici stabiliti a livello europeo, digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. In particolare, la Commissione europea prevede che almeno il 37% delle risorse vengano assegnate alla transizione ecologica e almeno il 20% a quella digitale. Il piano destina inoltre 82 miliardi al mezzogiorno, per una quota del 40% sul totale, e prevede inoltre un investimento specifico su giovani e donne. Le sei missioni del PNRR Il Piano si articola in sei missioni. La prima è quella della digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, con uno stanziamento complesso di 49 miliardi, per promuovere la trasformazione digitale del Paese, sostenere l'innovazione del sistema produttivo e investire in turismo e cultura. La seconda missione è quella denominata Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica, che stanzia 68,6 miliardi con gli obiettivi principali di migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico e assicurare una transizione ambientale equa e inclusiva. La terza missione, Infrastrutture per una mobilità sostenibile, prevede un importo complessivo di 31,5 miliardi, per lo sviluppo di un'infrastruttura di trasporto moderna, sostenibile ed estesa a tutte le aree del Paese. La quarta missione, Istruzione e ricerca, stanzia 31,9 miliardi di euro per rafforzare il sistema educativo, aumentare le competenze digitali e tecnico-scientifiche, sostenere la ricerca e il trasferimento tecnologico. La quinta missione, Inclusione e coesione, gode di uno stanziamento di 22,6 miliardi, per aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, rafforzare le politiche attive del lavoro e favorire l'inclusione sociale. La sesta missione è dedicata alla salute, con uno stanziamento di 18,5 miliardi, per favorire la prevenzione e i servizi sanitari. Sul territorio, modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure. Quali sono le riforme previste? Il Piano prevede inoltre un programma di 63 riforme per facilitare la fase di attuazione del programma e contribuire alla modernizzazione del Paese, rendendo il contesto economico più favorevole allo sviluppo dell'attività di impresa. Le riforme orizzontali del Piano, trasversali a tutte le missioni, sono, riforma della pubblica amministrazione, per dare servizi migliori, favorire il reclutamento di giovani, investire nel capitale umano e aumentare il grado di digitalizzazione, riforma della giustizia, per ridurre la durata dei procedimenti giudiziari, soprattutto civili. Ci sono poi le cosiddette riforme abilitanti, ovvero gli interventi per garantire l'attuazione del Piano e favorire la competitività, che sono, riforme per promuovere la concorrenza, semplificazione e razionalizzazione della legislazione. Infine, ci sono le riforme settoriali, dai adozione di piani nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico alla riforma dei dottorati fino alla riforma delle politiche attive del lavoro. A queste tipologie di riforma si aggiungono le misure che, sebbene non ricomprese nel perimetro del Piano, vengono considerate importanti per la realizzazione degli obiettivi generali del PNRR. Sono le riforme di accompagnamento, tra cui troviamo la riforma fiscale e quella degli ammortizzatori sociali. Le istituzioni coinvolte ministeri e amministrazioni locali sono i soggetti attuatori per la realizzazione degli investimenti e delle riforme entro i tempi concordati e per la gestione regolare, corretta ed efficace delle risorse. È significativo anche il ruolo che avranno gli antiterritoriali, a cui competono investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze controllerà il progresso nell'attuazione di riforme e investimenti e sarà l'unico punto di contatto con la Commissione europea. Inoltre, è prevista una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio. Le previsioni Secondo le previsioni del Governo, il PNRR avrà un impatto significativo sulla crescita economica e della produttività. Il Governo prevede che nel 2026 il PIL sarà di 3,6 punti percentuali più alto rispetto a uno scenario di base che non include l'introduzione del Piano. Sul fronte occupazionale, si prevede un incremento di 740 mila posti di lavoro. Il presente materiale di marketing è emesso da PICTE Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.com o in forma cartacea presso PICTE Asset Management, Europe, S.A. 6B, Rudufort-Niedergrenod, L.2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni d'investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui su www.assetmanagement.pict.com nella sezione Risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICT e Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne la proprietezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuirevi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing messa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali, i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative.